Ci siamo, Abu! Vai! Provate questo e le vostre papille gustative canteranno! Ehi! Ehi! Giù le zompe della mia merce! Ma come osi! Vattene via! Brutto, simbioso, stifoso da qui! Che bel colpo, Abu! La colazione è servita! Bella signora, compra un vaso. Abbiamo i più bevasi d'ottone e d'argento. Datteri squisiti! Datteri squisiti e fichi! Datteri squisiti e pistacchi! La signora vuole una collana. Una bella collana per una bella signora. Pesso è fresco! L'ho pescato con le mie mani. Compralo! Oh, no! Grazie, non è il caso. Scusatemi. Sono davvero desolata, signore. Oh, devi essere affamato. Ecco, prendi. Guarda che devi pagarmela, quella mela. Pagare? Nessuno ruba dalla mia bancarella! Vi chiedo scusa, signore. Io non ho nemmeno un soldo. L'Ordra! Vi prego, se mi lasciate andare a palazzo, mi chiederò al sultano. Ma tu lo sai qual è la punizione per chi ruba? No! No, vissuto! Oh, grazie, gentile signore. Meno male che l'avete trovata voi. Ti ho cercato dappertutto, lo sai? Ma cosa dici? Tu stai al gioco. Tu la conosci, questa ragazza? Eh, purtroppo sì. È mia sorella. Eppure è un po' matta. Ho detto che conosce il sultano! Lei crede che lo scimmiotto sia il sultano. Oh, saggio sultano! In che modo posso servirvi? Una tragedia, vero? Ma non è successo niente. Su, vieni, sorellina. Dobbiamo andare dal dottore. Oh, salve, dottore. Come state? No, 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 no. Non quello. Andiamo, sultano? Ma che cosa succede? Chi è stato? Tornate subito qui, brutti raddrucoli!